600 militari hanno eseguito su tutto il territorio nazionale misure cautelari nei confronti di 84 persone, tra i quali avvocati ed ex politici, mentre sono 170 gli indagati totali nell'indagine. I soggetti sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, traffico di stupefacenti, omicidio, corruzione, estorsione, ricettazione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e altri reati. Tra gli arrestati, oltre a figure dell'andrangheta vibonese, finiscono in carcere due avvocati, uno dei quali candidato a sindaco di Vibo nel 2015, un ex dirigente medico dell'ASP di Vibo e un ex sindaco del comune di Briatico. Molti nomi coinvolti in questo blitz figuravano anche nell'elenco degli indagati della Maestrale 1 di qualche mese fa. L'attività maestrale Cartago di oggi costituisce infatti la prosecuzione della prima tranche dell'operazione dello scorso 10 maggio. Grazie. Grazie.